Le indagini poi portano sempre a scoprire gli autori e prima o dopo prenderemo anche queste persone. Parole evocative, quelle del questore di Salerno Maurizio Ficarra, ma anche un impegno mantenuto. E dopo i due fatti di cronaca avvenuti al quartiere Torrione, prima con la sparatoria alla scuola Alemagna, poi il furto con spaccata all'armeria, arriva la risposta dello Stato. Le indagini dei carabinieri del comando provinciale hanno consentito di individuare l'uomo alla guida dell'auto che sfuggì dal controllo e dalla quale è sceso il passeggero che ha esploso due colpi di pistola in aria tra genitori e alunni. Si tratta di un napoletano residente a Scampia, la cui posizione al vaglio degli inquirenti. I militari hanno anche ritrovato e sequestrato l'auto, la C3 di colore nero, indicata da moltissimi testimoni e che era stata nascosta presso una carrozzeria partenopea. Le indagini proseguono per rintracciare il passeggero che avrebbe sparato e per capire l'origine dei 4.000 euro in contanti persi durante la fuga. Al momento però i carabinieri escludono collegamenti diretti con il furto di 5 fucili avvenuto nell'armeria del quartiere. Il questore invia un messaggio di serenità ai salernitani. Questa è una città dove la vivibilità è massima, dove rispetto a tante altre realtà del centro-sud noi siamo moderatamente tranquilli e moderatamente soddisfatti, il che non ci fa abbassare la guardia. Noi siamo continuamente sul pezzo e le nostre macchine intervengono subito. Ma ripeto, vi invito poi a constatare, perché spesso mediaticamente non prende quando vengono presi gli autori di un fatto successo un anno prima. Magari invece purtroppo se voi andate a controllare il tempo è questione di tempo e noi li prendiamo sempre perché qualche errore lo commettono sempre, fortunatamente.